Lo dico per tutti gli omosessuali, felici o no, io sono omosessuale. Così Gianni Amelio nella sua recente intervista al Quotidiano La Repubblica alla vigilia della presentazione del suo documentario Felice che è diverso, avvenuta la 64esima berlinale nella sezione Panorama. Parole che hanno fatto inevitabilmente scalpore, come sempre avviene quando un personaggio di tale spessore decide di fare coming out, tanto più se fatto a 69 anni, quindi in un momento in cui una tale dichiarazione potrebbe risultare ridicola, forse tardiva, ancora per stessa a missione di Amelio. L'approccio del documentario è decisamente più antropologico che sociale, le testimonianze raccolte sono agli antipodi da quelle stereotipate, in qualunque senso dell'immagine dell'omosessuale, così come viene rappresentata dai mezzi di comunicazione. L'occhio è quello di un uomo maturo, che racconta storie di uomini per la maggior parte in là con gli anni attraverso le loro testimonianze che arrivano fino all'inizio del secolo scorso. Ricordi di un'epoca in cui la condizione e l'accettazione della diversità non solo non erano praticabili, ma nemmeno contemplabili durante il fascismo fino al secondo dopoguerra. Colpiscono quindi la degnità e la pacatezza del documentario. L'immagine di come ognuno a modo suo ha affrontato il suo percorso e ha affermato dentro e fuori se stesso la sua diversità, ma soprattutto la serenità e l'equilibrio che riescono a trasparire dietro a questa affermazione, anche quando il percorso è stato drammatico e doloroso. Perché anche se non ci sono più il fascismo o la repressione, se la paura e il silenzio sull'argomento oggi non sono più gli stessi, ancora la strada da fare è molto lunga. Cioè la prostituzione maschile.